Grazie di essere qui. Abbiamo detto prima di tutto al Presidente della Repubblica che sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese e di lavorare il prima possibile per assicurare una maggioranza ad un governo del cambiamento che guardi al futuro, che porti in avanti le lancette dell'orologio. Gli abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro per tutto il lavoro che dovrà affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni e voglio dire anche che come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale, noi siamo una forza politica che ha ottenuto 11 milioni di voti circa su una posizione ben precisa che abbiamo ribadito al Presidente della Repubblica anche sulla politica estera. Ho sempre detto durante la campagna elettorale che con noi al governo l'Italia rimarrà alleata dell'Occidente nel patto atlantico, nell'Unione Europea e monetaria e questo è l'obiettivo che ci prefiggiamo qualora l'Italia dovesse avere un governo del Movimento 5 Stelle. Ovviamente è un percorso quello di lavorare a creare una maggioranza che è iniziato per noi il 5 marzo, da allora abbiamo iniziato l'interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari, avete qui con me Giulia Grillo e Danilo Toninelli che hanno incontrato i vari gruppi parlamentari negli ultimi, nelle ultime settimane, abbiamo interloquito con tutti e non abbiamo posto veti a nessuno, abbiamo discusso di temi e poi ci siamo fatti un'idea di quale e quali potessero essere gli interlocutori per creare un governo del cambiamento che guardi al futuro, un governo in Italia e dal voto del 4 marzo io credo che sia chiaro che siano emersi almeno tre messaggi dei cittadini italiani, il primo è che al governo deve andarci chi è legittimato dal popolo, credo che il messaggio del 4 marzo sia chiaro su un punto, sono stati bocciati i governissimi, i governi tecnici e i governi di scopo, il secondo punto è che si deve governare per cambiare e non per continuare a sopravvivere e il terzo punto importante è che si mettano al centro le soluzioni ai problemi degli italiani e non i giochi di palazzo ed è per questo che noi non proponiamo un'alleanza di governo ma proponiamo un contratto di governo per il cambiamento dell'Italia, è un contratto sul modello tedesco ed è un contratto che noi proporremo perché vogliamo che le forze politiche si impegnino di fronte agli italiani sui punti da realizzare e il vantaggio di essere una forza politica che non è né di destra né di sinistra è proprio quello di poter interloquire con coloro che vogliono fare le cose, coloro che vogliono migliorare la qualità della vita degli italiani. Il contratto sul modello tedesco ci permette di individuare di fronte agli italiani come forze politiche sottoscrivendolo non solo i temi da affrontare insieme ma anche i tempi e le procedure e dopo il lavoro che abbiamo fatto di interlocuzione con tutti i gruppi noi crediamo che un contratto per assicurare un governo agli italiani il Movimento 5 Stelle lo possa sottoscrivere o con la Lega quindi un contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega o un contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questi sono i nostri due interlocutori ma è chiaro che sono alternativi, sono due soluzioni alternative, ci tengo a precisarlo. Per questa ragione chiederò subito e ovviamente l'ho detto anche al Presidente un incontro con Matteo Salvini e Maurizio Martina per cominciare a lavorare alla strutturazione di questi contratti. Poi dopo le prime interlocuzioni capiremo con quale forza politica ci sia più convergenza sui temi e ovviamente individueremo il contratto da scrivere con la forza politica che avremo scelto e che quindi sarà più affine ai nostri temi. Badate bene non voglio lanciare temi, interlocuzione significa che insieme creiamo il percorso per arrivare al cambiamento del Paese ma è chiaro anche che l'Italia aspetta da almeno 30 anni alcune soluzioni a problemi enormi come la corruzione, come la lotta alla corruzione, come la lotta alla povertà, come l'abbassamento delle tasse, come la deburocratizzazione, come la gestione del fenomeno migratorio e come tutte le questioni legate alla disoccupazione non solo dei giovani ma anche dei meno giovani. Ed è chiaro anche che il voto del 4 marzo ci ha chiesto di metterci al lavoro sui grandi temi irrisolti degli italiani e voglio dire qui che le mie aperture sono sincere ma voglio anche precisare che rispetto a quello che ho letto in questi giorni. Io non ho mai voluto spaccare il Partito Democratico, non ho mai chiesto una scissione interna e se mi rivolgo al Partito Democratico mi rivolgo al Partito nella sua interezza perché al di là delle differenze di vedute e di posizioni non immaginiamo alcun tipo di interferenza e non ci permetteremo mai di interferire con le loro dinamiche interne. Lo stesso vale per il centrodestra, qui non vogliamo spaccare come qualcuno ha detto per strategia la coalizione di centrodestra, il tema è che io non riconosco una coalizione di centrodestra non solo perché le forze politiche che ne facevano parte si sono presentate con tre candidati premier differenti e a volte con tre programmi, con programmi differenti, ma queste forze politiche si sono presentate a queste consultazioni divise, pure avevano detto di voler venire insieme qui, ma quello che abbiamo anche ascoltato dalle consultazioni di stamattina è che alcune di queste forze politiche della coalizione di centrodestra hanno idee totalmente opposte ad esempio sul Movimento 5 Stelle ed è per questo che noi ci rivolgiamo ad una delle forze politiche della coalizione di centrodestra. Sinceramente come ci rivolgiamo al Partito Democratico nella sua interezza. Penso che debba essere quantomeno riconosciuta la responsabilità che sentiamo come forza politica di trovare una soluzione per assicurare un governo al Paese. Abbiamo ribadito al Presidente che impiegheremo tutte le nostre energie e le nostre forze per costruire una maggioranza intorno ai temi e intorno al contratto di governo, individuiamo un percorso, interloquiamo con le forze politiche, individuiamo lo strumento che è il contratto sul modello tedesco. Adesso io spero però che chi ci chiede responsabilità possa mettere al centro gli interessi degli italiani e non i propri interessi. Grazie a tutti.